bentornati ragazzi a novigrad con il nostro gheret per un nuovo contratto dunque c'è solo questo su gabacheca contratto fisso della guardia del tempio della città di novigrad cari seguaci della fiamma negli ultimi giorni alcune guardie del tempio sono state picchiate a morte nel modo più brutale è stata avviata un'indagine e il pevole vedrà presto la morsa della giustizia e chiudersi lì fino a soffocarlo chiunque sia in grado di aiutare i guardi e punire l'assassino o gli assassini deve rivolgere subito posto i guardi più vicino e riceverà una ricompensa si rende altresi noto che chiunque proteggerà o aiuterà i responsabili chi occulterà prove relative ai crimini sarà torturato imprigionato addirittura condannato a morte vabbè sergente gilbert wishle dunque come vedete abbiamo allora contratto deliziere tali questo ispira deliziere tali che ci sia di mezzo una prostituta ragazzi potrebbe essere come vedete ho comprato anche i vari schemi di potenziamento nel senso per andargli a cercare quindi ecco parliamo con la guardia sono qui per il lavoro parliamo di questa maledizione parliamo della mia paga prima allora spariamo ma mi sembra tanto facciamo sempre un 280 come ne ho chiuso di precedente è andata bene parliamo di questo parliamo di questo parliamo di questo parliamo di questo che ti faccio bene bene il corpo è morto ancora? dove? le ordine sono per le burnere il nostro medico è che si prende un po' prima cosa parlare con lui è in un'attività ora vediamo cosa posso fare noi ti pagiamo i ragazzi e io Allora, andiamo a Molo per parlare con il medico, che ha deciso di bruciare i corpi, attenzione, ma prima li sta esaminando, quindi non dovrebbe distare molto, eccoci qua, scendiamo di qui. Eccomi, siamo arrivati, forse, dov'è? Ecco qua il medico. Cosa? Cosa o fang o fang? No, fang o fang o fang? Non, non, solo scendere. Probabilmente le sceglie di loro avventure con le fang. L'ultimo corpo, dove è trovato? In una sede alleya along the road from the docks to the brothel district. Alguien ha troppato lì in mezzo di niente. Deve aver guardato questo posto. Hei che i bambini stavano desiccati. Hai credo che un bambino ha matato? Non lo so. I bambini stavano trattati, ma magari hanno cercato a prendere una magia che ha fatto un peccato da loro. C'era la dehydration? Stricamente, no. Non ho capito cosa si trattare. Grazie. Dev' andare a vedere il posto dove sono trovati. Buona luck. Ecco, come vedete stiamo continuando a... Allora... 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 Quindi... Un cavallo su due zampe non quadra giustamente, ragazzi. Continuiamo a seguire le impronte. Ci condurranno sicuramente da qualche parte. Vedete? Vedete? Oltre di qua... Quindi qui dentro è chiusa. Allora... Parla col proprietario del bordello. Quindi dobbiamo... Scusate... Passare di qua. Ecco qui, telecamera malefica. Entriamo qui. La tenutaria del bordello. Ecco qui. Ci ho già giocato carte con questa donna, eh? E mi sono vinto una carta da lei. Allora... Hai saputo degli omicidi dai guardie? Dimmi la verità. Allora... Ok. Vedete com'è utile avere l'Axi dalla nostra parte. Qui è chiusa. Ok. Ci ha dato la chiave della casa dove alloggia la succube. E probabilmente, ragazzi, quella porta che forse era chiusa prima... Non lo so. Ma il prossimo step della nostra missione dice... Affronta la succube. Quindi le succubi, ragazzi, i demoni tentatori dalle sembianze femminili procaci avvenenti. Che sfruttano la lussuria contro di noi. Allora, qua è chiusa. Probabilmente è al piano di sopra, succube. Come ci arriviamo? Allora, mi ricordo che questa missione prevedeva di... Ecco qui. Eccola. Voglio parlarti. Non so. Voglio parlare prima. Perché ti uccisi tanti tanti guardi? Eccola. 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 Ok, non ci siamo sentiti di uccidere la succube E quindi andiamo a riscuotere i compensi dalla guardia Abbiamo creduto alle sue parole ragazzi Se poi ho sbagliato non lo so Comunque Come vedete è una storia di prostituzione E' stato questo decine di episodi Ecco qui Il nostro La nostra guardia La vita di l'eterno fire protegge la città Deve essere usato un po' di volte recentemente In ogni modo, il succubus non farà nessuno più E qui c'è proof E' prostitute No, a parte quello ragazzi Ci vediamo per il prossimo episodio Vi ringrazio di aver seguito questo video Lasciate il like, mi raccomando Iscrivetevi al canale per sapere quando Vi metto online nuovi contenuti E che altro dire Basta, tutto qua Ciao ciao a tutti Alla prossima Alla prossima